La regione siciliana punta con decisione sullo sviluppo dell'energia rinnovabile. L'Aggiunta Schifani ha approvato una rimodulazione finanziaria che trasferisce complessivamente circa 15,6 milioni di euro sulle misure volte a sostenere la nascita di nuove comunità energetiche. È un modello sul quale la regione ha già investito in passato con risultati positivi, ha detto il presidente Renato Schifani, e su cui intende insistere con ancora maggiore convinzione utilizzando in questo caso le risorse europee. Le comunità energetiche favoriscono il coinvolgimento attivo dei territori e dei cittadini nella produzione e nella condivisione di energia pulita e rinnovabile. Condiamo così di allargare un sistema che avrà un impatto positivo sull'ambiente, che può soddisfare il fabbisogno energetico di cittadini e imprese a prezzi concorrenziali.